Dottore Mariani, una processione molto sentita per la città di Scalea oggi in maniera particolare per i fatti di questi giorni? Beh sì, sono anche contento di testimoniare con la mia presenza anche la mia attenzione per questo momento importante per la comunità e anche quindi la mia vicinanza, ovviamente nella veste di primo cittadino ancorché straordinario. Che tempi ci sono per ritorno alla normalità in base a quello che si è visto in questi giorni? I tempi per ritorno alla normalità, mi fate una domanda veramente impegnativa, io credo intanto che il ritorno alla normalità è metterci normalmente al lavoro e lavorare seriamente per i beni di questa comunità, quindi direi che il ritorno alla normalità è ora, quindi lavoro serio, impegno massimo da parte mia e da parte di ciascuno. Il comune non è di proprietà del sottoscritto ma è proprietà di tutti, quindi è un impegno che riguarda ogni cittadino. Per quanto mi riguarda cercherò di dare il massimo perché le cose in questo ente camminino come devono camminare, ma è altrettanto fondamentale che ciascun cittadino di Scalea si assuma anche la responsabilità perché questo territorio vada avanti. L'ente è con i cittadini, continuerà ad esserlo e quindi noi cominciamo adesso un percorso che spero possa portare ad una tranquillizzazione. Cioè è una fase certamente non facile, è una fase che richiederà il massimo impegno certamente del sottoscritto, ma di tutti. Io credo che l'importante è che i cittadini sentano questo comune, vogliono bene a questo comune e questa fase transitoria potrà essere utile nella misura in cui in questo momento la presenta è un momento di riflessione per tutti, di riflessione sui problemi, sulle cause di questi problemi che ci sono evidentemente e anche sulle soluzioni. Questi sono i presupposti. È un momento quindi da vivere come un momento di transizione ma anche come un momento di costruzione. In questo senso io sono convinto che potrà essere utile anche a chi giustamente e legittimamente quando avrà il momento dovrà riprendere le redini di questo ente. Io farei maniera tale, per quanto mi compete, di garantire un transito tranquillo verso gli appuntamenti democratici e spero di poter contribuire in qualche modo a riconsegnare, io o chi per me, insomma in futuro, a riconsegnare un comune in buone condizioni ai cittadini, in ultima analisi, a chi li rappresenterà democraticamente.